ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avete già letto dal titolo questo è un video dei prodotti preferiti del mese di novembre ragazzi ed è un video sempre in collaborazione con le mie magnifiche youtubers le mie amiche di youtube che stradoro allora la prima è francesca del canale scarlett 81 come al solito ve lo lascio scritto qua sotto e dopo di che metterò metterò anche loro link in descrizione ragazzi dislessia e niente la seconda è analisa del canale il mondo di annalisa e la terza è ornella dell'ex canale ornella mafei adesso l'ha nominato selvaggia bellezza ragazzi cioè non poteva scegliere il nome migliore selvaggia bellezza ve lo lascio scritto qua sotto e sono tutte e tre come vi ho già detto delle ragazze magnifiche io li strastra adoro gradisco moltissimo i loro video perché sono semplici veritieri e soprattutto e a me piacciono i tipi di video che fanno quindi li seguo molto molto volentieri e ultimamente continuo a fare le collaborazioni insieme a loro di questi tipi tipologie di video e di prodotti terminati prodotti preferiti e veramente mi sto trovando molto bene ragazzi gli mando a tutte e tre un grossissimo bacio scusate ma io sono sempre di fretta per quello barbetto però bene adesso qua dietro di me ci sono i miei preferiti ragazzi e vi mostro tutto uno per uno e vi do la mia recensione giustamente personale ragazzi ok continuate a guardare questo video ragazzi facciamo più the camera in qualche modo migliore ragazzi lì con la telecamera allora voglio fare una cosina perché di solito quando vi mostro i te còn di leggerà scritto a proclare quindi mi sono presa il mio specchio dalla camera, come potete vedere, ecco, non ci cade il casino dietro, e io voglio registrare praticamente dalla parte al contrario, così voi riuscite a vedere le scritte per dritto, però devo comunque guardarmi come mi muovo, come parlo, quindi mi sono messa allo specchio così riesco a guardare il tutto, ok? Adesso sistemo e continuiamo questo video. Sono fuori, lo so. Ragazzi, ce l'ho fatta! Speriamo bene, speriamo, riuscite a vedere tutto per bene. Allora, partiamo subito veloci veloci, perché non voglio che duri un'eternità questo video. Partiamo subito con uno dei miei preferiti di questo mese in assoluto, questo Lenore al gelsomino Scarlatto, ragazzi, ve lo strastra consiglio, ha una profumazione immensa e lascia i capi non solo profumati, ma anche morbidissimi, quindi ve lo strastra consiglio, è uno dei miei preferiti in assoluto, ma gli ammorbidenti della Lenore sono quasi tutti i miei preferiti. Poi sto utilizzando questo sapone liquido per le mani della Vidal, al muschio bianco, come tipo il bagno schiuma, solo che è sapone per le mani ed è ottimo, ragazzi, come lo è anche il bagno schiuma. È al profumo, ha il muschio bianco. È uno dei miei preferiti per il momento. Poi sto usando, ogni tanto che non sono di fretta, queste salviette struccanti della Fior di Magnolia, acquistati a Leurospin, ragazzi. Mi sto trovando benissimo, veramente. Oddio, spero che non siete sfocati. Ecco, si erano sfocati. Perfetto. Con queste salviettine all'interno ne trovate 25, per pelli sensibili, e sono ottime, ottime, veramente. Straconsigliate. Oddio, siete ancora sfocati. Perfetto. Poi, raga, i miei preferiti di questo mese sono pochini, ve l'ho già detto. Comunque, continuiamo con questo diodorante della Borotalco, quello classico. Straconsigliato, raga. È uno dei miei preferiti. Ma questo mese lo sto utilizzando tantissimo. Perché di solito cambio. Oddio, siete sfocati, che rottura. Di solito cambio, però, vabbè, questo mese questo è quello mio preferito. Poi, sto utilizzando questo contorno occhi della Sienne, al melagrana, bio e bacche di Goji, se si dice così. Sono full. Siete sfocati? Dove siete? Dove siete? Va bene, faccio ripartire il video, che forse è meglio. Rieccomi, raga. Eravate stra sfocati, quindi ho staccato. Vi dicevo che mi sto trovando molto bene con questo contorno occhi della Sienne, al melograna, bio e bacche di Goji. Siete sfocati? Come al solito, io volevo far bene, invece forse ho fatto peggio, facendo così. Ecco qua. Va bene, questo è uno dei miei preferiti. Poi, sto usando questo magnesio per stanchezza e sistema nervoso, 30 compresse, acquistato sempre a Lidl, ragazzi, e mi sto trovando molto molto bene. Sono in pastiglie, in pastiglie, e ne prendo una al giorno e, sinceramente, mi sto sentendo bene, veramente bene. Poi, ogni tanto lo associo all'effervescente, che ve lo prendo subito. Oddio, che mal di schiena, raga. Sono storta. Arrivo, arrivo. Eccomi qua. Sono vecchio ormai, raga. Comunque, questo qua, multivitaminico, è anche uno dei miei preferiti. Vabbè, siete acquistato, ecco, acquistato sempre alla Lidl, o all'Erospino, mi ricordo, raga. Comunque, è ottimo questo multivitaminico. Sono delle capsule rotonde così effervescenti. Vi sciogliete nell'acqua. Che palle questo sfocamento. Perché si vede sfocato? Ok, stai così. Va bene? Piuscola, cliccate un attimo. Bene. Vi trovo molto bene anche con questi qua. E poi, i preferiti di questo mese sono anche questa crema Nivea Soft. Vabbè, penso che in tanti la conosciate. È di infrescante e idratante. Ed è veramente ottima, raga. Ottima, ottima, ottima. Mi sta venendo un nervoso, raga, pazzesco che vi vedete sfocati. Perché, perché, perché? Faccio lo zoom che non c'entra mai niente. Bene, perfetto. Questa qui, comunque, raga. Poi, sto utilizzando ultimamente tantissimo questo profumo della Tesori dell'Oriente, Il Fior del Dragone. È simile al Dior Pnotic come profumazione, quindi stra adoro, raga. Lo stra adoro. Stra consigliato anche questo. Ed è uno dei miei preferiti. Poi, un altro profumino preferito di questo mese è questo qua, dell'Essence. Lo trovate a Lidl, ragazzi. Essence Jolie, come potete vedere dalla boccetta, se riuscite a leggere, se non diventate sfocati, come sempre. Eccola qua, stra, stra consigliato. E ha una profumazione stra delicata. Buonissimo. E anche un altro dei miei preferiti di questo mese, perché all'interno, un colpometto. Quello è un colpometto questo, che devo ancora aprirlo, perché l'ho acquistato di recente. Della Chalande. Chalande. Sempre acquistato a Lidl. Stra, stra buono, raga. Poi, sto utilizzando questi prodottini qua, della Natura Verde, raga, biologici. Vedete? Alla bava di lumaca. Allora, questa è una crema viso anti-età. Ed è rigenerante e restitutiva. Come potete vedere, c'è scritto qua nell'etichetta. E questo è il suo siero, della stessa marca. Li ho presi al tosano, ragazzi. E mi sto trovando benissimo. All'incirca, questo l'ho pagato sui 6 euro e qualcosa. E la cremina, pure forse, raga, ma non mi ricordo benissimo. Ce l'ho già da un po'. Infatti la sto anche terminando. Il siero invece no. Mi sto trovando di più. Perché basta veramente pochissimo. E sono dei prodottini al 97% naturali, come vedete. Natura Verde. E il siero è questo qua. Ve lo faccio rivedere perché mi sa che non avete stato sfocati. Come adesso! Che nervoso! Ok, va bene. Poi, raga, è un'altra cosa che questo mese mi sta piacendo tantissimo. E vi ho detto che vi facevo sapere. Io di solito acquisto questo detersivo per i piatti all'Eurospin della Dexal. Però questo mese, io di solito acquisto quello a limone. Però questo mese ho voluto acquistare questo qua all'aceto. Ragazzi, e mi sto trovando stra stra bene. Molto meglio. E di quello che avevo prima. Quindi, di quello che usavo prima. Oddio, perché non so parlare. Quello a limone, questo è più buono. Quindi, decisamente, userò sempre questo qua all'aceto. E provatelo perché è valido, veramente. Poi, il mio preferito di questo mese è questo disinfettante sgrassatore della Dexa. Mi trovo molto bene con i prodotti della Dexa. Ma lo sapete già, chi mi segue lo sa già. Che io sono un love dell'Eurospin e Lidl. Quindi, raga, questo qua è uno dei disinfettanti sgrassatori che mi sto trovando molto bene questo mese. Poi, ultimamente, raga, sto avendo tantissimo mal di schiena. E quindi, e quindi, adesso vi racconto. Eccomi, raga, sono una vecchia. Guardate qua, cosa ho? Questa fascia lombare, cintura lombare. Che praticamente, io, come sapete già, lavoro in un bar, ristorante e pizzeria. E sabato e domenico ho lavorato malissimo perché ho avuto un forte mal di schiena. Però, ahimè, io non riesco a star ferma. Quindi, sono andata lo stesso al lavoro. E tutti i miei clienti, adorati clienti, diciamo che mi hanno dato anche una mano. Perché, di solito, magari, si ordinano le cose e io li dovevo portare. Invece, mi aiutavano se li prendevano anche da soli. Poi, magari, mi riportavano anche il bicchiero, la tazzina per farmi fare avanti e indietro. E, in particolare, un cliente, che è veramente lo stra-adoro, mi ha fatto il favore di andarmi a comprare questa fascia qua. In un negozio cinese che, ve l'avevo già fatto vedere, il baule. Quello che ho acquistato le cosine, tipo i fenicotteri per il bagno, le fodre. E' andato in questo negozio che è vicino qua, dove abito io. E mi ha acquistato questa cintura lombare, come potete vedere. Ed è ottima, raga, perché ha tantissime stecchette. In più ha queste altre, vi faccio vedere. Queste altre faccette che adesso ancora non le ho messe, perché me le ha portate stamattina al lavoro. E con queste cose qua che riscaldano, quindi dopo me la vado a mettere, perché è assolutamente bisogno, vado ad attaccare anche questa parte qua o più piccolina. Ma io andrò a mettere questa grande, raga, perché ho tutto male qua. Qua, ma soprattutto, vi faccio vedere bene, questa parte qua, che mi scende giù nella gamba. Vabbè, non mi ha detto un bel niente, però ok. E faccio veramente fatica a piegarmi, a star seduta. Mi manca anche il respiro, cioè riesco a star meglio in piedi che seduta. Però vabbè, raga, e questa è una cosa che questo mese è la mia preferita, perché mi dà un pochino di sollievo, raga. Poi vi faccio vedere questo cappellino, che è uno dei miei preferiti di questo mese, guardate qua. Lo adoro. Maculato così, vabbè, lo metto. Eccolo qua. Così. Fatemi sapere nei commenti se mi sta bene o mi sta una cagata. E poi, e poi, raga, i preferiti in assoluto di questo mese, che però non ce li ho più, raga, sono le castagne da mangiare. Che le ho acquistate a Lidl, la rettina, ed erano buonissime, ragazzi, ma non ve le ho fatti vedere. Però, se andate alla Lidl e vedete le rettine di castagne, acquistateli, perché sono stra stra buoni. E poi, adesso vi faccio vedere un attimino cos'è l'ultima cosa preferita mia del mese, e poi concludiamo qua questo video. Eccomi, raga, io non me lo tolgo più questo caffè, lo fa un freddo cane. Cacane! Vabbè. Raga, sono in frigo, mi sto guardando dove le ho messi, dove le ho messi, i miei preferiti di questo mese, li adoro, raga. I cachi, stra stra buoni, raga, li ho acquistati all'Eurospin Agri Bologna, c'è scritto, e sono stra buoni, stra buoni, e sono... È la frutta mia preferita di questo mese, castagne e cachi, li stra adoro questo mese. E niente, raga, questi sono stati tutti i prodotti e le cosine da mangiare, il mio cappellino preferiti di questo mese. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, e vi abbia dato dei consigli per qualche prodottino. E io, come al solito, ringrazio le mie colleghe, e giù in l'info box, vi ho già detto, vi lascerò il loro link, dei loro canali, così potete andare a guardare i video che hanno fatto anche loro gemelli a questo qua mio. Ciao! E niente, vi mando tantissimi baci, che adesso vado a pulire un po' casa, perché poi devo scappare al lavoro, non raga, di nuovo. Quindi, ci vediamo a un prossimo video. Ciao, raga! E ricordate che l'impossibile può diventare possibile. Ciao!